Ciao, sono la dottoressa Diana e oggi ti voglio svelare quali sono i 5 alimenti principali che aiutano a mantenere i tuoi capelli più forti e più sani. Il primo tra tutti è sicuramente il miglio, perché questo contiene moltissime proteine, ha un elevato contenuto di sali minerali ma anche di vitamine, soprattutto del gruppo B, che aiutano a mantenere i tuoi capelli più forti e più sani, favorendone così la crescita. Inoltre il miglio contiene anche un elevato contenuto di acido salicilico, che è una sostanza che oltre a contribuire alla salute dei tuoi capelli, contribuisce anche alla salute della pelle, delle unghie e dei denti. Il secondo alimento è invece lo yogurt, perché questo contiene moltissime proteine, ma soprattutto ha un elevato contenuto di calcio che è fondamentale per la crescita dei capelli. Il terzo alimento è invece la frutta secca, tutti i tipi di frutta secca, perché questi invece contengono un'elevata quantità di zinco, il quale contribuisce appunto a mantenere anch'esso i capelli più forti e sani. È stato infatti visto che al contrario un deficit di questo sale minerale va a indebolire i capelli, favorendone la caduta. Inoltre tutti quanti i tipi di frutta secca sono anche molto ricchi di selenio e di omega 3, che contribuiscono anche loro alla bellezza dei capelli. Il quarto alimento sono invece le carote, che sono ricchissime di vitamina A, la quale invece contribuisce soprattutto alla salute del cuoio capelluto. L'ultimo alimento invece sono tutte quante le verdure a foglia verde, perché queste invece sono ricche di vitamina A e di vitamina C, che insieme contribuiscono alla crescita dei capelli. Ciao e arrivederci al prossimo consiglio! Grazie a tutti.